Aprirà i battenti domani mattina al Lab Vaccinale di Modica, negli spazi di AG Distribuzione, sito strategico che servirà anche ai comuni di Ispi, Capozzano e Scicli. Momenti da film, ieri a Gela, dove il re dell'automobile, Notoluca, ha tentato il suicidio lanciandosi in mare al volante della propria Opel, rompe il finestrino e viene salvato da un sommozzatore. Tagliano le orecchie a un cane e poi si giustificano affermando che così era più bello, sconcertante la scusa di alcuni bambini, sostenuta anche dai genitori. Ora Leone sta bene. Dopo i lavori di recupero e messi in sicurezza, pubblicato dall'amministrazione di Ragusa, il bando per affidare Gava Gonfalone alle guide turistiche saranno loro a promuovere il sito per cinque mesi. Salve a tutti e ben trovati con l'informazione di TG 74. Apriamo il telegiornale con i numeri sempre poco confortanti riguardo i contagi da coronavirus in terra iblea. Una preoccupazione soprattutto a Ragusa e a Comiso dove però i sindaci chiariscono che si è ancora lontani dal dichiarare la zona rossa. Intanto l'ASP comunica che inizieranno domani le vaccinazioni nel nuovo hub di Modica sulla strada statale 115 per Ispica. Ma i dettagli nel servizio. Così come già annunciato dalla direzione dell'ASP di Ragusa, aprirà i battenti domani mattina l'hub di Modica, struttura vaccinale ricavata nel centro agi distribuzione lungo la strada statale 115 per Ispica. Un luogo strategico situato tra i comuni di Modica, Ispica, Pozzale e Scicli che consentirà le vaccinazioni grazie alla disponibilità dell'imprenditore Giorgio Alescio che ha messo a disposizione i propri locali. Una grande struttura di circa 1000 metri quadri ospiterà 20 postazioni per l'inoculazione dei vaccini. Ampi spazi per l'accoglienza, la reception, per gli ambulatori medici e sarà garantito anche un ambiente per il servizio di assistenza psicologica. Un vasto spazio esterno allestito direttamente dal comune di Modica che anche contribuito alla realizzazione del hub permetterà di parcheggiare i mezzi di trasporto dei cittadini. Soddisfazione dalla direzione strategica per la nuova struttura che per le caratteristiche che offre darà un impulso in più alla vaccinazione nella provincia iblea aggiungendosi ai centri vaccinali e sostituendo il punto vaccinale di via Sacro Cuore di Modica. Perché la priorità resta sempre quella di vaccinare il più elevato numero di persone nel minor tempo possibile, visto anche l'incremento dei contagi che ha messo sotto pressione diversi sindaci iblei, numeri che preoccupano soprattutto a Ragusa e Comiso. In entrambi i casi i rispettivi primi cittadini ritengono che gli attuali parametri rientrano ancora nei limiti e quindi non sarebbe ancora il caso di appellarsi alla regione per l'istituzione della zona rossa. Non abbassiamo la guardia ma non facciamoci terrorizzare dai numeri. E la dichiarazione del sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, sono in tanti in questi giorni a chiedere che Comiso entri in zona rossa, afferma il primo cittadino, ma nei fatti non ci sono né i numeri né i presupposti in virtù del DPCM emanato dal governo centrale. Su questo è giusto fare chiarezza e il decreto prevede che si entri automaticamente in zona rossa se si registrano 250 nuovi positivi in 7 giorni su 100.000 abitanti. Quindi, facendo la proporzione in una città come Comiso, che conta 30.000 abitanti, dovrebbero esserci 75 nuovi casi di positività in una settimana. Il picco registrato dal 13 aprile ad oggi, continua il primo cittadino, non ha superato i 30 nuovi casi. Ma tornando alle vaccinazioni che proseguono in provincia di Ragusa, ieri ancora una volta qualche disservizio dovuto alla carenza di dosi Pfizer ha portato molti prenotati all'Abb di Ragusa a dover tornare a casa senza vaccino. Questo perché le dosi ci sarebbero, ma è intenzione dell'azienda sanitaria provinciale non rischiare che un ulteriore ritardo metta in pericolo il richiamo per la seconda dose. Per questo si è preferito avvisare i prenotati di posticipare il vaccino in attesa dei rifornimenti che, in linea di massima, arrivano tra il lunedì e il martedì, ma che questa volta sono slittati a metà settimana. Infine, non si esclude un ritorno dell'Open Day a AstraZeneca, visto il successo dello scorso fine settimana. A comunicarlo è stato il presidente della regione, Nello Musumeci, soddisfatto di quanto visto durante l'ultimo weekend e con ancora diversi vaccini AstraZeneca da poter somministrare ai over 60. E ora passiamo alla cronaca con l'arresto da parte della Polizia di Stato di due giovani pusher, uno di Gela e l'altro di Vittoria. Gli agenti hanno anche sequestrato, pensate, circa un chilogrammo di cocaina per un valore di oltre 200 mila euro. Sentite. Ben un chilo di cocaina dal valore, se immessa sul mercato della droga, di oltre 200 mila euro. E quanto ha sequestrato la Polizia di Stato la scorsa notte nel Lipparino? Precisamente sulla Litorania che da Scoglitti conduce a Gela. Le manette sono scattate ai polsi di BF di Gela di 30 anni ed RI di Vittoria di 31, colti nella fragranza di una transazione tra i due. Il gelese, che stava per vendere la cocaina al vittoriese, poi successivamente quest'ultimo l'avrebbe distribuita nella propria zona. Piano è andato però in un fumo. Grazie proprio al blitz della Polizia di Stato che ha accolto i due sul fatto, continuano quindi i servizi di controllo del territorio in ambito provinciale disposti dal questore di Ragusa, Giuse Agnello, che vedono la Polizia di Stato quotidianamente, costantemente impegnata per contrastare ogni forma di illegalità. L'attività sinergica delle pattuglie dislocate sul territorio ha consentito di recuperare oltre il chilo di cocaina anche circa 12.000 euro in banconote di vario taglio trovate addosso alle vittoriese. Sicuramente erano l'anticipo che il giovane pusher stava per consegnare al proprio rifornitore di Gela. Nessun dubbio sul fatto che anche la cocaina fosse destinata all'attività di spaccio che si sarebbe svolta nella provincia di Ragusa e che una volta immessa nel mercato al dettaglio avrebbe fruttato circa 200.000 euro. Entrambi i soggetti, stante la gravità dei fatti, loro addebitati, sono stati arrestati e su disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica di Ragusa al termine degli addempimenti di rito condotti in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria competente in attesa della convalida dell'arresto. Scene da film invece a Gela dove un noto imprenditore, Salvatore Luca, fondatore di Luca Auto, ha tentato di togliersi la vita lanciandosi in mare, pensate alla guida della propria autovettura. L'uomo alla fine avrebbe rotto il finestrino per mettersi in salvo e poi portato fino a terraferma da un sommozzatore. Ingrana la marcia e punta verso il mare. E' così che il noto imprenditore di Gela, Salvatore Luca, fondatore dell'autosalone Luca Auto, ha tentato per la seconda volta di togliersi la vita al volante proprio di un'autovettura, un Opel Agila Azzurra. Queste le immagini del suo recupero nello specchio d'acqua antistante il portodifugio di Gela dove si sarebbe recato proprio per farla finita. Alla base forse le ultime faccende giudiziarie legate a infiltrazioni mafiose. Così come accadde nel 2006 quando tentò di togliersi la vita davanti al comune minacciando di darsi fuoco dopo essersi cosparso di benzina. Questa volta una scena da film. Totò Luca, ieri pomeriggio intorno alle 15, ha quasi visto la morte in faccia. Era dentro l'auto in fondo al mare e solo per miracole è stato salvato da un sommozzatore che ha raccontato i fatti. Ho visto l'utilitaria in acqua ma mentre cercavo di raggiungerla per salvare il conducente, affondata. A parlare è Emanuele Boccano, sommozzatore professionista a Savona che casualmente si trovava sul molo del porticciolo quando l'imprenditore Salvatore Luca ha deciso di accelerare per lanciarsi in mare con la propria autovettura. L'Opelagila ha urtato frontalmente una bitta prima di lasciare la banchina. L'autovettura è stata trascinata dalla corrente verso il centro del porto, aggiunge Emanuele Boccano, rendendo inutile il primo tentativo di avvicinarlo. Sono risalito sulla banchina e da una imbarcazione mi sono tuffato per la seconda volta. Solo dal mare ho notato che l'Opel era ormai affondata. Seguendo le indicazioni delle persone accalcate sulla banchina sono riuscito ad avvicinarmi e mentre nuotavo ho visto riemergere un uomo. In quel momento ho usato tutte le mie forze per aggrapparlo e riportarlo sull'imbarcazione. L'istinto di sopravvivenza infatti avrebbe portato l'uomo a rompere il finestrino per salvarsi la vita. Alla fine l'uomo è stato tratto in salvo e trasferito in ospedale. Sul posto, capitania di porto, sanitari, polizie e carabinieri, l'auto è stata recuperata. E ora torniamo sulla triste storia del cagnolino salvato dalla brutalità di alcuni bambini che per gioco gli hanno mozzato le orecchie. Quello che adesso fa ancora più discutere è la giustificazione di uno di loro. Lo abbiamo fatto, ha dichiarato perché così era più bello. Una scusa certamente inconcepibile che lascia a tanta amarezza. Così il cane sembrava più bello. Queste sono le parole con cui uno dei bambini che hanno tagliato le orecchie al leone ha giustificato il gesto e a rendere ancora più sconvolgente il tutto è stato il fatto che sua madre ha ribadito lo stesso concetto. È pieno di amarezza Riccardo Zingaro, responsabile dell'OIPA di Ragusa, mentre racconta la prima reazione di chi, armato di taglierino e forbici, si è accanito su una povera bestiolina in difesa. Un caso balzato anche agli onori della cronaca nazionale. È sempre Zingaro al quotidiano la stampa, ha dichiarato, è segno di un degrado sociale, della mancanza di cura, del rispetto nei confronti di altri esseri viventi. Per questo bisognerebbe lavorare su di loro. Ora i bambini, perché di questo si tratta, avendo tra i 9 e i 10 anni, sono stati identificati ma data l'età non sono perseguibili. Sono stati segnalati però ai servizi sociali. Tutto è accaduto in un quartiere di Acate. Alcuni bambini decidono di tagliare le orecchie ai cagnolini di una cucciolata che vive con loro in cortile. Non erano randaggi come si credeva, ma vivevano con loro con il degrado che questo comportava. La cucciolata era composta da quattro cagnolini. I bambini ne riescono a prendere uno e iniziano a infierire su di lui. I lamenti di Leone, così verrà chiamato da chi l'ha salvato per il coraggio dimostrato, vengono sentiti da un passante che interviene e chiama le forze dell'ordine. È la stessa persona a portare lo sfortunato cagnolino dal veterinario. Ora Leone sta meglio. Le lacerazioni gli sono state ricucite ed è sotto cure antibiotiche. Nonostante quello che ha subito, ha dimostrato sin da subito un carattere dolce e non ostile verso le persone, racconta Zingaro. Siamo riusciti a portare via anche altri due cani di quella cucciolata e tutti e tre saranno dati in uno stallo temporaneo. Una storia che ha appassionato, ma anche commosso. Posti di rabbia anche sui social fra chi ama gli animali, portando anche a parole molto forti che non trovano d'accordo proprio Zingaro. Ho letto molti commenti di solidarietà e incoraggiamento nei confronti di Leone, ma ci sono state alcune persone che si augurano la morte dei bambini, che hanno commesso il fatto, saranno le autorità competenti a stabilire la condanna. E restiamo sempre in argomento perché siamo in collegamento proprio con Riccardo Zingaro, del responsabile OIPA Ragusa, che a breve vedremo anche a monitor. Eccolo qui, Riccardo, intanto grazie per il tuo collegamento qui con noi. Quindi una scusa veramente sconcertante. Lo avrebbero fatto sul serio per gioco forse, perché così sembrava più bello, così hanno affermato non solo uno dei bambini, ma anche i genitori. È veramente questa la situazione? Sì, salve a tutti. Niente, è praticamente emerso da un post su Facebook che poi è girato, dove appunto si raccoglievano i commenti da parte di alcuni parenti, adesso non so se erano i genitori o chi per loro, dove appunto questa frase risuonava ancora più macabra, dice così, sembrava più bello. Quindi, ripeto, siccome purtroppo vengono usate molte volte queste usanze barbare di tagliare orecchie e code ai cani, quindi non vorrei che fosse scaturito da qualcosa che abbiano visto, fare da altri a più grandi sicuramente. Ma adesso come sta? Leone, questo è il nome che è stato dato al cane, come sta? Sì, Leone è stato dato il nome dalle fantastiche volontarie che lo stanno seguendo. Voglio innanzitutto ringraziare anche le altre associazioni che stanno partecipando a questa gara di solidarietà, perché ci siamo veramente riuniti finalmente in un'unica famiglia, OIPA, EMPA e anche altre associazioni presenti nel territorio. Il cane sta facendo una terapia antibiotica naturalmente, soprattutto una rieducazione psicocomportamentale, perché capirete che il disagio psicologico che ha avuto è stato notevole. Ecco, forse l'hai accennato. Quindi c'è anche una raccolta fondi per Leone. A che punto è? Come verranno poi investiti questi soldi? Sì, io mi sono permesso di usare Facebook per fare una raccolta chiara, trasparente, dove si vedono le cifre raccolte. Ci siamo imposti un minimo budget, che è quello per le cure veterinari, per le cure che verranno fatte, e di 500 euro che abbiamo già raccolto in appena due giorni. Le gare di solidarietà sono state tantissime, ricevo ogni 5 minuti telefonate per l'adozione di Leone, e vi ricordo in Onza che sono stati levati anche altri due cuccioli che erano con lui presenti. Ne rimane ancora un altro e tu stesso speri che anche lui verrà tolto dalle mani di quella famiglia? Purtroppo un cane è rimasto, ripeto, là con loro, che poi ci sono delle procedimenti penali in corso, quindi ci saranno poi l'autorità giudiziaria con cui noi stiamo anche collaborando, come guardie ecozofili, quindi agenti di polizia giudiziaria, per assicurare, ripeto, il bene di Leone e dei suoi fratellini, ma soprattutto anche cercare di venire incontro anche a queste famiglie e ai loro figli. Una storia che certamente ha commosso, che è balzata anche agli onori della stampa nazionale. Sui social, come spesso accade, se ne sono dette di tutti i colori ed alcune sono state anche abbastanza pesanti perché c'è stato anche chi adesso si augurava la morte, insomma, dei bambini, questo è comunque un atteggiamento, una frase che va condannata. Sì, sì, infatti ho voluto fare proprio io un post per calmare i toni. La morte, ripeto, continuo di nuovo, le violenze e noi siamo qua per difendere. Le violenze su ogni essere umano e la morte non si augura a nessuno, c'è il rispetto per la famiglia, c'è il rispetto anche per i ragazzi, perché non siamo noi che dobbiamo soltanto noi facciamo applicare la legge, ci saranno i servizi sociali, però ripeto, in tutta questa confusione anche c'è stato chi, come sempre, mi ha accusato, ci ha accusato sempre di mettere alla ribalta e di gettare fango, che è questa frase che sempre usano ormai magari gente omertosa, gettare fango sulla popolazione. No, noi non cerchiamo di gettare fango su Accatio o su qualsiasi altra situazione, noi cerchiamo soltanto di far emergere la verità, di difendere la legalità e ricordo a tutti, a questa gente, che la morale è una sola, non c'è bianco o nero. Riccardo, il tuo lavoro continua come continua quello dell'OIPA. Oggi sei accomiso perché oltre Leone ci sono tante altre realtà, tanti altri cuccioli che vanno forse difesi, vero? Sì, certo, io ricordo a tutti che siamo volontari, quindi non abbiamo nessuna retribuzione, io tra lavoro ho avuto un'emergenza, adesso proprio a Comiso c'è un cane detenuto alla catena da 15 giorni in un'abitazione, ringrazio l'ufficio ambientale, la polizia municipale di Comiso, il sindaco per essere subito messi a disposizione, quindi noi sono centinaia, guarda, ti assicuro, sui casi di maltrattamento che noi abbiamo fatto in un anno come OIPA, come i guardi ecozofile e quindi sempre in maniera gratuita, quindi non è esibizionismo, adesso è esibizionismo, è collaborazione con le forze dell'ordine e collaborazione con i cittadini onesti. E i cittadini onesti, oltre che noi, ti ringraziamo ovviamente per il vostro lavoro, noi soprattutto per questo collegamento e ancora buon lavoro a te e a tutta l'OIPA. Grazie. E cambiamo adesso argomento, dati sconcertanti arrivano dopo la giornata della legalità promossa da Confcommercio, migliaia di imprenditori siciliani messe in ginocchio dalla crisi economica che si affidano ai usura, ai casi preoccupanti anche nel ragusano, sentite. Sono circa 4.000 le imprese a rischio usura nell'intera Sicilia. E' quanto emerge dei dati diffusi a Roma dal direttore dell'ufficio studi Confcommercio, Mariano Bella, nel presentare un'analisi sugli effetti dell'usura al tempo del Covid per le imprese e la percezione che le stesse imprese hanno del fenomeno. Rispetto al 2019, ha spiegato Bella, è più che raddoppiata la quota degli imprenditori che ritiene aumentato il problema. Sono a immediato e grave rischio usura, sottolinea anche Confcommercio, circa 4.000 imprese regionali del commercio, della ristorazione e dell'alloggio. Il mezzogiorno, purtroppo ha osservato il direttore dell'ufficio studi, paga un prezzo più alto e il rischio di usura definitiva per le imprese maggiore. Per fare un esempio, tra nove grandi città italiane colpite dall'usura, Napoli, Bari e Palermo sono tra quelle a più rischio. L'impatto del Covid sull'economia e sulle imprese è stato devastante. I numeri sono impietosi e certificano una situazione disperata, anche in Sicilia, per migliaia di lavoratori e imprese. Tra le cause principali di questa devastazione economica ci sono certamente la perdita quasi totale di fatturato e la conseguente crisi di liquidità. Ecco perché, proprio al fenomeno dell'usura e al suo impatto sulle imprese del commercio e dei servizi, è stata dedicata l'ottava edizione di Legalità Ci Piace, la giornata nazionale confcommercio sulla legalità. Covid e usura, un binomio sempre più fitto e preoccupante. In assenza di adeguati sostegni e di un preciso piano di riaperture, rischiano la definitiva chiusura a numerose aziende del settore non alimentare e dei servizi, di cui quasi la metà esclusivamente a causa della pandemia. Un problema che riguarda da vicino anche la provincia di Ragusa. Nel 2020 le imprese del commercio, alloggio e ristorazione indicano per il 50,7% una riduzione del volume di affari, per il 35,3% mancanza di liquidità e difficoltà di accesso al credito per il 14%, problemi di tipo burocratico. E ora a Ragusa, dove l'amministrazione comunale ha recentemente pubblicato sul proprio sito un bando per la gestione di Cava Gonfalone. Il suggestivo sito naturalistico sarà quindi affidato a delle guide turistiche per tutto il periodo estivo. Cava Gonfalone a Ragusa, affidata per qualche mese ad un'associazione di guide turistiche che dovrà occuparsi della custodia, manutenzione, fruizione, valorizzazione e promozione del sito naturalistico. E quanto ha intenzione di fare l'amministrazione comunale di Ragusa che per tale scopo ha pubblicato sul sito istituzionale un avviso di manifestazione di interesse che mira alla custodia, gestione e manutenzione ordinaria del percorso di Cava Gonfalone. L'apertura al pubblico del sito dovrà prevedere tur guidati con catenza plurisettimanale oltre all'attività di promozione e comunicazione correlata. La durata dell'incarico è di cinque mesi da giugno fino ad ottobre. Il comune di Ragusa concederà in uso gratuito al concessionario gli spazi di Cava Gonfalone in cui sono stati eseguiti i lavori di adeguamento ai fini della sicurezza della creazione di un percorso mentre a favore del gestore resteranno gli incassi delle visite guidate nella Cava Gonfalone a copertura del servizio svolto. La Cava Gonfalone, dichiara l'assessore alla cultura e a beni culturali Clorinda Arezzo, rappresenta un elemento identitario di forte impatto nel territorio di Ragusa. Il recupero della storia passa da una sua imprescindibile conoscenza ed è questo il primo obiettivo che l'amministrazione comunale vuole raggiungere, permettere cioè ai cittadini e ai visitatori di potersi ad entrare nella storia della ricostruzione di una città vissuta dal punto di vista di chi questa città l'ha ricostruita. Passeggiare all'interno di questa immensa città in negativo regale emozioni difficili da esprimere, ma il racconto di abili e professionali guide aiuterà a dare le giuste sfumature a un luogo già di per sé magico. Invito pertanto, conclude l'Arezzo, le associazioni guide turistiche presenti nel territorio a organizzare una propria proposta che vada a integrare i requisiti minimi richiesti nel bando. La sperimentazione di questi cinque mesi sarà seguita, in coincidenza con il periodo invernale, dai lavori di adeguamento delle strutture teatrali presenti all'interno della Cava Gonfalone che permetteranno un utilizzo del luogo più completo e vario già per la prossima stagione estiva. Bene, il telegiornale termina qui. A tutti voi grazie e buon proseguimento di giornata.